rimane are passed by oh 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 apritevi porca maia vabbè vai 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 e castere sono tre castere tre castere Sergio pusho pusho il fungarolo io vai io thunderer tol luriken so mezzato io mio luriken muore mio luriken muore dai dai è un gruppo l'ho ruptatele pure lo ho rupto il bardo no me l'hanno donato il mio stamed sbriciola ha fatto lui è stato mezzato sono stunno raga mi continuano a curare il fungarolo dai 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 eravamo dietro quindi se ne facevi assist morio nooo mi hanno curato di nuovo occhio stamed te l'ho rupto Lucy ok grazie raga ruptatele pure se potete eh ho i il petto della niente il bardo ti ce l'ha sono stunnato mantenemente perdo il fungarolo scaccia il petto scaccia il petto lo scaccio metto il truido ho il caster che stava 100% libero l'ho perso eh stai calmo il mio caster sta facendo 100-0 da 20 minuti avvocato l'erro di fila raga il bardo raga c'è un caster libero vabbè gli ho tirato la cosa raga ferdi il bardo dietro di te per favore dai venga mal bardo ma ce ne ne mai chiedi ne ho due ne ho capito mal bardo ci sta urlato dai è rotato in tutto questo Teo sto caricando sono elzato purgo dov'è il bardo eh purga 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 invitate invitate Teo c'è bg questo è scappato anche il mio lo sto ammalando sono routed sono routed anch'io siamo al socio da dove si è crashato elfa libera l'ingarola libera eh io c'ho i pet che non mi fanno cazzare ne tengo due ne tengo due ne lo sto imitando lo sto imitando ok ti metti uno scritto lo metto chargio c'è il druido libero qua raga io sto con due land le sto tenendo due power lì mezzo l'altro druido mi hanno fatto piang mi hanno fatto piang mi hanno fatto piang arriva un party albio di naz che si fa venite verso il gate venite verso il gate mettete in mezzo libbi mettete in mezzo libbi andate verso il gate a nord sembrano levarsi me l'ho preso guardiamo che l'fg coro 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 niente mi interruttano niente ti ho donato ma non vabbè dobbiamo pushare il gardio non negavistati hai cast wall guard via 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 no niente zerg zergalbion via 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 zergalbion io sono standard gate genipala chi è quello ce l'hai charge? crescendo di gruppo ce l'hai? io ancora 30 secondi a charge c'erano due parti di albion eh non sono tantissimi il problema è che alblet c'è lo zerghi vabbè adesso è il glen c'è scritto che poi in qualunque momento c'è a copiarti il pg da lì sui wayne quindi ah sinistra 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 ma che sono? che cazzo? che cazzo è? porca maiana sono strano vai vai ah bello 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 vai tutti contro gli albion bello contro gli albion bello contro gli albion cuscio si si brito lady brito lady scoppiamolo cazzo 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 vai cazzo come è stato io occhio io muoio 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 c'ho un pet bello ruti voi li mostri un quarto non lo so non posso andate un po' più verso gli albion raga un po' più verso gli albion lascia lascia il pet occhio ce lo sozzo ma non possiamo andare verso gli albion sono tutti qua pay shift non mi curate eh standard sbriciola ok me ne muoio c'è il mi tiro wargard fammi assist col coloco oh sono stunnato 9 secondi morto un altro box top box mi fanno assist aiuto 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 curatemi curatemi vadognano morto lady aiuto occhio ora mi fanno assist a me mi fanno assist a me mi fanno assist a me mi conno guardate un po' verso gli ibi puro ferdi occhio ferma curato questo no 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 muore 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 scat l'uomo root sbriciola eric di malattia su questo è xp vai 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 anzi incolle di ferdi sbriciola mezze e non posso capire che c'era questo spiare il club e non serviva, è venuto spiricio la standard morto questo conno, questo qui chargio non 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 libia lex caribur dove vai a rizzi di troia, dove scappiano conno eric c'è un altro si è un mercenario eh si ma c'ha la vita occhio a che non menare gli altri ma quello lì ha messo il cavallo vado io sto picchiando ancora un tizio ho messo il cavallo eric vai stick stick cliccate i buff va bene vai si vado vai, seguo la war pio eh si bravo io prendo quello sulla sinistra raga ok non è che ha visto vanno assist, vanno assist, vanno assist chargio vanno ragazzi lo ti ho chiamato un'ora prima vai c'ho row io merda c'ho i sull'inca row io c'ho uno non me lo curano forse lo killo cazzo raga me lo hanno donato ma porco dio f1 f1 c'hai debuffo del cem f2 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 ok shiftato 9 secondi mezzo il champion e mezzo il board push a lussi push a curare lo killo l'inca lo killo l'inca lo killo l'inca e morto dai sono ancora stunnato hanno purgato tutti sono stunnato vai 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 so come mi ha moccato eh se volete zephyrarla la zephyro io la zephyro io la zephyro io la zephyro io la zephyro ok zephyrata siamo solo io e te mario il mio non mi scappa io sono nel campo di rovi il mauler libero sto mi vai 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 dai so se INSOSSISO ho箇�o da parte indietro dietro 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 sono mezzato mezzato viene bene questo questo vai caster free tu non ho turnato viene 11 interruttati o più lo proprio mi ha immezzo sono mezzato torno indietro torno indietro per o no 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 ci siamo ok non lo pucio 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 è rotto il mio poco mi ha inculato il barco fine mezzo purgo dai dai lo stu un oro tirati qualcosa lo curo bravo non posso arretrare io c'ho il mio il mio lo killo il mio è mezzato lo lascio mezzato il warden è in moca dietro dietro c'è un add un add di un ns andiamo sul aspetta vai vai ragazzi cercate di buttare le cure e niente il warden è dietro sono il mio mago sono in charge porco di occhio c'è lontano martirio c'è il mio mago sono stunnato 9 secondi stock me free il warden è free dietro di te io sto sul mauler raga sono stunnato scoppiato sto scendo fuori dal link prova a mezzo vai vai io lo chiedo è stunnato vai veloce veloce bardo free sono snorato dietro dietro torna merito mezzo vai 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 il mio morto il mio morto zefi era questo turnano ce l'ho io bardo libero mi hai delvenuto il bardo ce l'ho io il bardo io che la cazzo ha messo mezzo sto qui questo questo che è da me sbola qui sbola qui è morto che muore di puttana ok finno finno l'eroe non tira a correre fatti non posso togli il colo togli il colo l'ho levato l'ho levato il colo mezzo 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 non ho dato i miti ah si vabbè ma è uno mezzo questo coso qua per il risultato il risultato il mondo mezzo mi ha detto che sant'è la dalle non sarà l'uomo 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 non sta merando nessuno ma ci sono bambini adeguato il caso di ma sono fermati per forza un problema non sta facendo niente vittor sant'è l'avano ci sono due qui dietro era un po' l'uomo è uno scanto bella rica tutto quello ma sono sexi da morire bellissimi non ho soss due minuti non ho melodie nove minuti io martirio down faccio la work io si non ho soss ma guarda ma già debuffato e questo debuff vi shottano quando vi debuffo mi sembra root qua root russi charging guarda occhio sbriciola che arrivo siamo dietro gli tiro gli ho tirato martirio il grouch raga ho già tirato lui il dio ho preso con ora venarden ho sturnato il grouch prendo il bardo non roe roe è il maule metterla root russi sono sturnato momentaneamente stannete sbriciola caster free c'è ancora la dritor ci ritorno occhio per il bardo sono snarato root russi ok root russi di sogmi occhio sconfianccio sconfianccio ma dove sei oh e dove sono eh il mio il champion ha sticcato prendo il mauler prendo il mauler ragazzi non c'ho il row non c'ho il row prendete il mauler ce l'ho io io c'ho il mio mago sempre io sono sul mio mago root russi no ci credo vai sforgan 3-5 scritch dobbiamo fare il cambio occhio su di me su di me vai 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 mauler free grouch free mezzo 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 non hanno cura non hanno cura se vi fate assist qualcosa lo segate i caster si alloccati ho preso un mezzo lo puoi corrare il bardo e ho pulgato genna vinta down vinta down poche a ferdi siamo dietro siamo dietro ho mezzato io merda standard sbricciola scusate mezzami eh sì mi chiamate un DD siamo indietro siamo mezzati e rutati curatelo con le valk il mauler muore ti chiedono in quattro charge indietro ti riprendo l'uriken io ruttate le cure non ce l'hanno le cure raga sono due ce l'ho due addosso dimmi lì occhio ok ora ci siamo bravo buono buono prendo mezzo il mone mezzo il mone mezzo il mone metterlo c'è un luriken libero un luriken libero in mezzo dietro qui dietro il mio lo killo il mio lo killo eh c'ho sogmi teo non la posso lasciare con l'ns nad di nuovo sono rotato furgo warguard ma porca madonna hanno preso hanno preso anche i mob dai sono fonnata dietro c'è l'ho c'è l'ho c'è l'ho c'è l'ho comunque si guarda che continuano a chitare qua toc mi muore ha tirato il r5 due su di me add di là il cedro non è che si fermano no 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 chiamate i mezzi di ocale standard sbriciola dietro dietro il warden arrivo scoppiamo qua ne ho due qua ne ho due ci sono ci sono no ma a mezzare è da solo scriccio ok vado anch'io dove sei teo arrivo ok io tengo quello grigio sono l'ultato tiriamo tiriamo no no si può servire anche il cuore morto per favore ok mora anche il mio per 5 sono senza mano spai o no commenta o l'incavo sono morto ma sono quel bastardo io a mezzalo stanno casemano la mattina non è il cazzo è il cazzo di tempo io ci rende alla fine per tenere dietro il loro sapo siamo rimasti noi ma comunque raga questo qua è il mauler che era speccato tank e cacca chi su it e lui è il tank che era speccato mauler cioè il mauler che era speccato mauler oh no dai arrenditi al tuo destino ma l'uccidente lo sa ce l'ha fatta dai su dai mg poi rimana song però se è in bg e si muove c'è qualcosa che non muove non sono tutti sono tutti 24 serie vai vai sembrano molto tank oriente si si occhio con i bg bello io mi prendo il chierico allora vai forse mi fa mi fanno male minatsuki 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 il mezzo mi servo a mezzo il mio teurgo questo è tutto il caso è da push a tutti e ho preso tra con i sono su te ok no tirato delle cinque la scaccia la scaccia la scaccia la scaccia dai forza un cazzo vengo io sub vengo io fermati c'è il chierico è stunnato è sono stunnato dal necro prendo danni parecchi dove sei lusi mi menano mi menano sono stunnato sono in r5 sono in r5 sono in r5 perché non sono stunnato arrivo bg fanno assist su lusi sono sempre con 3 amici sono sempre su surcio è poco e il necro questo river luci si sta qui poca roba poi 13 secondi di mezzo e non posso ferdi c'è il necro sti ma ci provare c'è il sorcio è libero noci raga il sorcio è ancora libero è un po la vera ciascuno mezzato purgo raga io sono nella merda purgata giallo teorego free no lo preso io ok non cacciato io sedetevi 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 subito instant che palle io non mi posso sedere sono un coccodrillo quello fisico alla fine fisici fisici io tipo quello ma con la magica sinistra in sinistra in sinistra in vai 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 eccoli che sono i primi che abbiamo anche ero sono i primi che abbiamo in casa dai ce l'ha fatto lo stesso dai ok ho preso un caster ok sono rooted caster morto io qua ne ho due sono rooted arrivo da west fox 1 un altro morto due ho ruotato il druido ne ho tre raga aiuto stamed tranquilli tranquilli che è un male ho tornato il bardo nell'albero hanno già morti hanno due morti questi ne ho due non posso guardare l'acqua ne ho due usciò usciò vai 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 sei uscito occhio 2 ragazzi un caster pushato occhio eh non c'è no io sono mezziato bardo dietro free ho chiuso di me io ho preso un altro elfo eh io bardo e druido dietro free raga eh sono mezzo guarda 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 mezzato e rutato è lo stesso tengo l'elpo L'animista è 5L Sì, buono No, ma hanno mezzato, raga, mago libero Chi ne mezzo? L'eldrici libero Ho mezzato i due support, ho mezzato i due support, non hanno cure Sì Avranno solo il warden, presumo Stunned, sbriciola Ok, ripreso l'eldrici, eh Ok, hai segato il pochino No, non ho una puttadora Arrivo Non ho una puttadora No, ho un support Sì, sì Il ganiglia L'Evge ci tira delle 5 e muore, ok L'ho visto L'ho ruto, eh L'ho ruto, l'animista Avete i support dietro, eh, raga, verso il gate mid L'ho finito, sì, sì C'è l'animista dietro la torre Vai, Serby Sì, l'avevo riloggato, ma sono un altro carattere, mio cane Madonna, madonna puttanole Che carattere avevi, io? Bene Brutto carattere Questi che tirano le instant quando è rimasto un minuto solo No, raga, ma aspetta, il bardo lo stavo picchiando, mi ha fatto face, il girato e mi ha tirato due DD Oddio, sinistra si picchia, no? Oh, è sempre Catania quella Ma questi sono altri ibi roboto di minicchia No, è morto l'inconnuto! Hai vinto cosa gli ha tirato? Cosa? Ma chi è che ci ha tirato? La pallona! Eh sì sì, quella bellissima Ma questo è... Ma questa è... Raga... Porca... Ma Rai, Inka è Anathleto, sono add Ma che addo? Sono quelli contro gli altri Chargio Charger Caster Caster, Tiarna Chargio Morto Il mio caster è morto Ma perché Anathleto è così in rage? Non lo so Ma raga è il bardo, alla sinistra di Lucy Io picchi Anathleto Occhio al caster lì dietro Anathleto muore Anathleto caster qui Chargio Ma hanno ucciso gli albion raga Eh, hanno dato gli albion, sì Non sono stato Non credo Vabbè Anathleto è morto C'è il bardo dietro, eh Lo stai picchiando in NR5 e hai pure da mezzato il bardo Mi sa che sta arrivando un po' di roba dal... Sto parlando con un scricciolo Vabbè ha ammazzato un altro mago, raga Cazzo Io sto amenando il bardo No, stavi amenando il druido in NR5 e quindi l'hai curato E sei passato di fianco? No, il druido lo amenavo io con un coso Oh, scommettiamo? Sì, sono io sul druido Ma che razza di comportamentazione Ma peccato che con il cazzo di range della range Li ha ammazzato tutti, porco dio Mi frecciano? Bello, cazzo sì Ah, ci sono due frecceroli qua su di me Fatemi face, fatemi face Dove sono? Dove sono? Qua sulla collina 1 Confusa del confondersi Sono uno dei celti Non va a pagare Non va a pagare Ma se c'è, funziona ma non me la fa amenare a me Cosa? Cosa? Rai l'andori, raga, occhialghiette eh Ce ne sono N000 La lankia, io e charge contro lankia Perdi e le busciano Perdi, ma che dica fai? Occhio prendo danno ora Debuff Chita, chita Debuff, prendemi cure Ma porco due Mi instant snarano Sono mezzato Raga dove siete? Raga ma siamo in link qua, che cazzo fate l'hai detto? Raga, tanto siamo morti Oh, roe non adder Ma, non c'è capire un cazzo Busciato Occhio Occhio Si, io chargeo Occhio Ce l'ho 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 Raga andateci Occhio to me Sargio Andateci, io le sto capendo un cazzo Andate verso il game Sei mezzo Stamina assi, stamina assi sbrizolona Il lankia, non lo sa Si, morti, morto Sono in errore 5 io, non tranquilli Ello mezzo Tranquilli sono in errore 5 Allora non ti posso dimensare Voletevelo dire? Non posso fare niente eh Devo boccare Prendete quest'animista raga un caster un figlio di puttana arriva 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 alber che questa fisica viene lusi pg mi hanno soccato il mio caso l'ho moccato per il bel su nato lfg me lo puoi ruotare questo petto grazie dai muore questo occhio arrivano albion arrivano albion andate a nord 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 passate in piedi crescendo di gruppo via 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 sono routed purgo passate passate buono 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 gambe 12 ritirata su tutto che parte che non si è questo qui è stato già scappato la torre non è nostra la via via roby vieta di sottotitoli muore 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 no dai che è entrata al 10% che classe è appena a rifiutati andate via 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 ctc perché andiamo via non capisco quanti sono gli altri 8 sono tanti mancate cazzo eh io sto panicando perché rimaniamo in mezzo allatore che possono teleportarsi gli eb ma che l'ate cazzo suksuksuksik dai guida c'è dai che si fa comunque gli albion sono stati paninati da row dietro belli si allora possiamo pusharli e io ho comunque ancora quel pendri non posso dire va a tiro du davanti io prendo io prendo buono prendo il chiarico io raga non posso muovere non posso muovere sono sul teo il chiarico muore non c'è è morto il chiarico dai no io ho preso vista vai ce l'ho io ce l'ho io il chiarico cinchillo il pesce vai fanno powerlick mi serve un mezzo sul tempo mi serve un mezzo sul tempo dipendo da chi c'è c'è il mezzo c'è sui me arrivo 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 ho tirato martirio ce l'hai te lo stun e vado via eh proviamo che ci sono ci sono ci sono ci sono ci sono sul teo non ho niente da tirare faccio fermati c'è il pet mle 9 il teo è free ah no c'è sbriciolo è il moch è il teo è stanna e sbriciola ho tu westlock bg stanna e da 5 tranquilli questo lo stun lo stun o westlock vai via eh sono snagato no a mezzo dove il chiarico ragazzi ho preso il sei sicuro che sia il moch il teo no 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 adesso no lo stun o no purga eh rutto il palli appena mi finisce nero ti studio il pet non ho mano non ho mano il prete è free e lo ripiglio io ora ce l'ho io ce l'ho io westlock c'è vg eh ho chiesto di me ho chiesto di me eh mi serve sbriciola sbriciola c'è il scaccia no è down non posso curare non posso curare nello di app c'è il chiarico dietro l'albero westlock lo vedi non posso curare non posso curare ce l'ho io ce l'ho io ce l'ho io ce l'ho io prendo patars lo facciamo tank su di me stun ed sbriciola te org free te org free chiarico sta morendo tre tank su di me non ho niente eh se mi pigliano mezzato forse libero chiarico libero raga chiarico libero chi è crashato? crashato di nuovo vabbè non ci credo no raga ma io mi faccio killare piuttosto sembra che sembra una scusa dai quindi veramente dai vabbè io mi siedo ma dai manograplato manograplato no io mi siedo io sono seduto sbriciola è seduto Ferdi è seduto però è tristissimo a meno io la vedo che si sta vincendo dai io che la rivelto eh ma se ci si ci ammazzano nel senso a me non è che fate fate rude a westlow non lo capisco beh ma sistematevi sti cazzo di computer mamma no però è un'utilizzazione eh veramente qui sotto? a noi non c'è morto nessuno a noi no no c'è lo zerg c'è lo zerg c'è lo zerg qua sotto occhio beh vediamo anche noi no 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 occhio che arrivano gli ibi ci puntano sono tanti? si apritevi ma no è rogo ah no 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 sono gli altri verdi sono gli altri sono altri lui ci c'è PG eh? allora dai che ha un party un party fun non è zerg è un aclusto è un aclito vai su su lì su lì è un aclito è un aclito comunque un aclito ma dai sono le medico di me c'ho io un aclito non è te? ci svolgo il mure è un aclito è un aclito che devo fare qualcosa abbiamo fatti in amico raven hanno cinque tanti in assist dove sei sta firmando vattene e come faccio tra bg fermo perché la leggera le democche non lo fermo se fermo lì se fermo lì ultimo che rocca un pochino al caster vivi se lo posso menare sì 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 ma che sei di un chiumma e che ne sacci io qua non ci capisco più cazzo quelli verde e scuro li puoi menare io sto sharando tutto tutto negli anni sto sharando più io del e poi sono colorati come minazzucchi resti cazzo vai cric dovevo l'assist aiuto mi picchia ma il bardo firbolgo davvero mi picchia no non è che per me non c'è lì che ciao o no non vedo niente vabbè allora mi aveva ammazzato il silvano giorgio vengono in assisto il druido lol sono andato dal police verde dal police verde è un caster qua raga un luricain questo scelta che brutto fine che ho fatto questo questo luricain bambaron cosa fa capronpa eh menamile non è verde comunque ragazzi ditemi che era un party questo era un party ragazzi serio? ma che è questo? chi è questo qua? è due due parti ma sono più di un party ragazzi saranno due parti siamo in nodi in sedici a menare un ink di cinque minuti però io ho un conto ragazzi è un party veramente oh non è fra dietro chi sono? non lo so se jelosyn sono pochi non lo so no jelosyn muore assist jelosyn ho un tanto feshift jelosyn nel momento niente niente cambio no io sto su jelosyn intanto prima o poi muore prima che scopre questo sui due support c'è dejexal in moccor o come manco? sono stunnato! e' il search con l'abilità di mind sono stunnato che danno m'ha fatto sto coglione? hai visto che danno m'ha fatto? sono meggiato non sono venuto ma c'è allusia? e' non posso curarlo c'è ielos finchè mi spamma la falla vabbè non mi fa tanto ma ora punta la calda allo sul mondo con la calda ma come l'ha preso in bene cazzo è rilassante giocare ma fa 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 bg che ecco bg ma quello lì è il 5% mezzato e' anche questa è il 5% vieni vieni lui si picchiamolo ieri si è morto ma dai minchia dai ve l'ha fatta morto che se non passavo città ho girato un novelle mamma mia novelle che pesca ma una che noi vabbè e' lì e' lì un po' che sono allora il t4 con setup un po' alternativo ok ok ragazzi dai zio caro sono non abbiamo ben incazzati eh sono caro cazzo occhio ci occhio c'è frutto t u.wiz face shift è come no sto chillando mi sta in pieno di pets oggi a chi l'altro il teurgo è star da ce l'ho prendendo il tuo fronte la facciglia raffredda teurgo free va bene c'è il teurgo lì fiacco purgo ammogliate moccato dai purgata sono ripreso il teo adesso l'ho ripreso dai il mio casser va giù controllo link con nato dai pet aria scuonata è fattibile non sono scatti adesso appena fermati il mauler one shot occhio su di me occhio su di me teurgo i mocc teurgo i mocc porco dio i campi di pet adesso teurgo i mocc ragazzi raga cacciato occhio su di me toglietemi per scendere di gruppo forza scaccia pet da uno schiacciato la 5 l dai questo link e controllo dai 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 che il mio merda stasera dai dai il cleric muore cazzo dai ti chiediamo il mauler il tic dietro il tic dietro il tic da ragazzo ho preso il controllo forza e su ti libero bella 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 ma è immune 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 lo prendo io però lascia non lascia non lascia non lascia io sono tutta debuffata cazzo chissi merda sono mezzato lussi ma perché sei dietro c'è bisogno di un non si può sicurare raga lo ruto lo ruto il tic lo ruto noo chiuso di me non posso sicurare vai bella ha preso il mauler chiuso di me nel winzer me lo di 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 martirio me lo di a forza controllo ancora dai vai dai che mo lo tiro il mauler raga il coso eh c'hanno i support i suport si io sono sul wizard metto la box minatsuki minatsuki vero minatsuki alla tua destra dietro di te minazuki free teo ce la fai mauler libero di shot al mauler raga non posso non posso dai dai chierico morto sono sul prete non cura mauler mantello bianco caster morto caster morto brisola stanne del teurgo free raga nel r5 sono nel r5 sono sul freezer ruptate il racer ruptate il racer forse torna dietro torna dietro ci sono ha arrestato il dai 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 chiudete il link ci sono ci sono ci sono ruptate il supporto bravo bravo vado sul chierico arriva al tic dietro sono un mezzo sul tic non posso vai dai caster morto caster morto vai 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 sono mezzato dai c'è il sorcio il mio target il chierico bruto mezzo l'ho messo destra destra cera ti gira ti gira ti gira dai 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 ho preso il chierico dai 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 ho preso il chierico dai chierico stu'nato chierico muore ma che finisce finiscono ferdi curo ferdi l'ho avuto il prete l'ho avuto il prete mi serve mano vai brava brunilde brava cazzo così brunilde l'ho avuto il prete prendo minacciucchi assist ragazzi qualcuno assist qualcuno assist stane stane sbriciola ma la mano per di vittorio ma la mano per di a letto senza cena a letto di alcare e go capace non ha frappi nessuno ecco se lo dici così oh li abbiamo inchilati il 9 bello ho usato per la prima volta i core sul tic hai visto? bravo perché tanto queste cose servono gli importanti hai visto? primo kill revenal prego raga e forse il primo kill l'ho fatto io del lab